E' stato firmato a Palazzo delle Aquile il nuovo contratto integrativo dei dipendenti del Comune di Palermo, tra l'amministrazione Orlando e le organizzazioni sindacali. La trattativa ha riguardato la parte giuridica del contratto, a cui adesso dovrà seguire quella economica, dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio in Consiglio Comunale e il conseguente stanziamento di 1,5 milioni di euro. Il contratto prevede la conferma di tutti gli istituti pregressi, l'indennità per gli assistenti sociali, i funzionari contabili e amministrativi, con compiti particolarmente gravosi e per coloro che svolgono servizi disagiati. Un allargamento della platea delle figure professionali che percepiranno l'indennità di funzione, l'indennità di servizio esterno per la Polizia Municipale e ancora i progetti di produttività specifica per i servizi svolti di sabato-domenica e in occasione dei festivi infrasettimanali, come quelli dei vigili urbani o dei settori cultura, sport, cimiteri e turismo. Un grande risultato, dicono Nicola Scaione del CSA CISAL, Lillo San Fratello della FPCGL e Salvatore Sampino e Leoneo Martinez della UIL FPL, frutto di una lunga concertazione e di un proficuo contributo dei rappresentanti dei lavoratori. Non possiamo che essere soddisfatti di questo accordo, che verrà finanziato grazie ad apposite somme in bilancio, con le quali si provvederà a riconoscere quanto dovuto anche ad altre categorie. Un adeguamento contrattuale, afferma il Vice Sindaco ed Assessore al Personale Fabio Giambrone, che renderà possibile una maggiore efficienza dei servizi, cui corrisponderanno maggiori gratificazioni per i lavoratori. Per il Vice Sindaco, che ha seguito la trattativa, la ritrovata sintonia con tutte le sigle sindacali è molto importante ed è una base su cui costruire una più forte collaborazione. Soddisfazione anche da parte del Sindaco Lelucorlando, che sottolinea l'importanza di una sintonia e collaborazione con i sindacati che rappresentano i dipendenti, asse portante di tutta la macchina comunale, dal cui lavoro dipende la qualità dei servizi resi a tutta la comunità.